Ecco, stavolta nel video della rubrica che state seguendo, insieme con i nomi dei due personaggi che stanno un po' dialogando, il sottoscritto e poi il Don Mauro, trovate anche il titolo, come sempre per caso, di questa rubrica settimanale, non solo il male nobiscum che ci accompagna da secoli ormai, ma quello proprio settimanale. Il battesimo al plurale. Uno dice, cos'è battesimi comunitari, perché adesso i nostri preti ci hanno abituato che siccome il battesimo è un momento di chiesa, è sempre stato per carità, ma lo vogliamo evidenziare meglio, è una celebrazione comunitaria che dice molto meglio il fatto che accogliamo delle persone nuove dentro il popolo di Dio, eccetera, lo si celebra insieme, due, tre, quattro, cinque battesimi fatti insieme e che se fatti bene veramente sono belle liturgie che rallegrano il cuore e fanno condividere anche la gioia di un momento così bello per le varie famiglie e per tutta la comunità. Il battesimo al plurale, soltanto che stavolta il significato non è battesimo al plurale uguale battesimo comunitario perché lo si celebra insieme. Battesimo al plurale forse l'avrete letto, senz'altro in qualche giornale qualcuno se ne è occupato, il fatto che qualcuno, qualche prete, perché poi in questo caso si parla di preti, che mentre celebrano il battesimo invece di utilizzare quella che conosciamo tutti, la formula sacramentale io ti battezzo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo, si sono messi a dire noi ti battezziamo, noi chi? Allora ecco che fanno l'elenco, noi genitori, noi padrini e madrine, noi nonni e zii, noi cugini eccetera eccetera e poi alla fine dice noi ti battezziamo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. La congregazione che sotto la guida del papa, una commissione diciamo, segue un po' la vita liturgica della chiesa anche per dare degli indirizzi, degli orientamenti eccetera, è arrivata puntuale e ha bollato questa faccenda in modo feroce perché addirittura si arriva a dire e il papa ha sottoscritto che battesimi celebrati così, con questa pseudo formula sacramentale sono addirittura invalidi, cioè non è semplicemente che uno ha fatto una cosa che non andava bene fatta, ma ha reso vano, inutile il gesto che stava compiendo, cioè non c'è stato sacramento, non c'è stato battesimo, adesso qui dovremmo un pochettino chiederci e quei poveri martiri che sono stati battezzati con questa formula invalida come la mettiamo, non so come la mettiamo, non so se il Don Mauro sarà capace, senz'altro lo è, di spiegarcelo questa faccenda. Intanto però Don Mauro partiamo un po' dalla domanda che qualcuno si fa, ma perché invece di dire io ti battezzo, noi tutti qui raccolti in assemblea ti battezziamo eccetera, come mai la faccenda è così sostanziale da diribere addirittura un battesimo valido da un battesimo che non è valido. Cioè qui c'è dentro qualcosa di più grande, di più grosso, che riguarda la stessa liturgia probabilmente per arrivare a una determinazione di questo genere. Certo, c'è tra l'altro davvero un vizio dal punto di vista sacramentale. Primo, la liturgia non è cosa nostra e quindi il rischio appunto è di avere tutto quello che ci serve per celebrare in comunione con la Chiesa, perché appunto proprio perché la liturgia non è mia, io sono chiamato a vivere la comunione con tutta la Chiesa, con la Chiesa universale, appunto seguendo i riti, i gesti, i segni che la Chiesa mi affida, la liturgia non, appunto non la invento io. Nel momento in cui io eschio, ma non è questione del leone di omologazione, perché poi qualcuno dirà e siccome abbiamo sempre fatto così c'è che un po' cambiamo. Non è questo il significato, il significato è che la liturgia, ripeto che non è nostra ma che ci è affidata, ci permette sicuramente di arricchire alcuni momenti, non so, penso a volte agli offertori o ad alcune didascalie che spieghino, è vero che poi non vanno bene neanche quelle, però le formule sacramentali non vanno cambiate. È come se Don Mauro invece del pane e del vino per fare l'originale, non so, prendesse una brioche e un cappuccio. Capite che ci sono delle attenzioni che dobbiamo avere, ma che ricordano fondamentalmente questo. Quindi nel momento in cui io non uso i segni, le parole, i gesti che la Chiesa mi affida, che tra l'altro è segno di comunione con tutta la Chiesa, è logico che il sacramento non vale. Quindi questo è il primo punto chiave, la liturgia non è opera del prete, non è ad nutum della fantasia, ma ci è affidata da celebrare con certi crismi e soprattutto dentro alcuni gesti, alcune parole che hanno la forza del sacramento, cioè della potenza di Cristo e del suo santo spirito. E qui viene fuori un'altra faccenda, che il prete non è più bello degli altri nell'assemblea liturgica, perché ha il suo compito e tutta l'assemblea partecipa a concelebrare. Però in quel momento lì il prete che dice questo è il mio corpo, prendendo le parole di Gesù, io ti battezzo partendo dalla consegna di Gesù, ha in quel momento lì un ruolo che non può essere annegato nei genitori, nei badrini, nell'assemblea. Certo. Primo il fatto che noi preti quando celebriamo i sacramenti non siamo vestiti come gli altri, non è perché ci piace, tra virgolette, indossare anche in questo periodo che fa caldo alcune tuniche o alcuni drappi colorati e paramenti e così via. Ma già il vestito indica che stiamo celebrando una cosa di Dio, cioè una cosa che appartiene a Dio. Il rischio grosso del leone è che quando noi vogliamo fare gli originali, e anche nella nostra categoria ce ne sono, siamo capaci di usurpare anche queste cose che rendono invalido il sacramento. Lo facciamo qualche volta perché così i riflettori si accendono su di noi. A me è capitato ancora di dire, ma siccome qualcuno mi segue in televisione, mi è capitato ancora di dire, quando riflettiamo con i gruppi liturgici, anche tra preti, dico cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un balletto per attirare le persone in chiesa perché così facciamo gli originali? Cioè dobbiamo inventare delle cose assurde, a volte vedi dei preti che durante i matrimoni si mettono a cantare la canzone dei ricchi e poveri, così uno, quel prete lì salta fuori, moderno, originale, che sa catturare. Ecco, dobbiamo stare molto molto attenti, senza dimenticarci che, vi dicevo prima, ci rivestiamo noi preti perché in quel momento non è Don Mauro che opera, ma è Gesù Cristo stesso, noi agiamo in persona a Cristo, questo l'abbiamo studiato in teologia, ma ci crediamo, quindi quando io dico io ti battezzo, non è Don Mauro che battezza, è Gesù Cristo che in quel momento nel segno dell'acqua e nel segno delle parole che io pronuncio è lui lì, proprio lì in quel momento che dice a quel bambino tu sei mio, io ti immergo nel mio mistero d'amore, ma così vale per tutti gli altri sacramenti. Nel momento in cui, ripeto, vogliamo attirare l'attenzione su di noi, siamo capacissimi di fare delle cose assurde. Quindi non noi ti battezziamo, ma è Gesù Cristo che incrocia la sua vita con quella creatura nel battesimo dicendo io ti battezzo, ti inserisco nel mio mistero. Il prete presta semplicemente la sua voce, pensa il suo gesto, ma chi battezza è Gesù Cristo, la forza del suo spirito, quindi non è dall'assemblea che viene il sacramento, ma è da Gesù Cristo. Direi che veramente siamo e tocchiamo punti chiave. Qui viene fuori un pochettino, tanto è vero che quando noi celebriamo messa abbiamo sotto un libro, il cosiddetto messale, che quando si celebra il battesimo il prete ha in mano un libro, rito del battesimo, che quando il vescovo celebra la cresima c'è in mano un libro dove c'è scritto rito della cresima, che quando si celebra un matrimonio c'è un libro, rito del matrimonio. Cosa vuol dire avere questi testi in mano consegnatici appunto dalla Chiesa e dall'autorità della Chiesa a nome di Gesù Cristo? Credo che altrimenti non ci metterebbero in mano neanche un libro. Inventate quel che volete, invece non è proprio così. Certo, i vari messali e i vari riti sacramentali dicono appunto quella appartenenza alla comunità cristiana perché come io celebro il battesimo a Fino del Monte, lo celebra Don Leone a Torre Boldone, lo celebra il Papa Roma, lo celebra il missionario là dove svolge il suo ministero. Cioè i rituali servono per creare appunto quella comunione che ripeto non è omologazione ma è quella comunione che ci permette di esprimere la presenza di Cristo che in quel momento nella celebrazione dei sacramenti, che in quel momento è lì, è proprio attuale, è Gesù che celebra, è Gesù che consacra l'amore dei due sposi, è Gesù che trasforma il pane e il vino nel corpo e nel suo, è lui, è lui. E allora i rituali servono proprio per questo legame di comunione, onde evitare appunto che qualcuno celebri a modo suo e così via. Mi era venuta in mente anche davvero un'altra cosa Don Leone su queste cose che sono tra le altre un pochettino grave, è quando appunto qualcuno, utilizzando queste nuove formule, diventa più importante di Gesù Cristo. Cioè si mette lui al centro. Secondo me questa è la cosa grave. Quando la liturgia, compresi i rituali che tu ricordavi, sono ricchissimi di preghiere, il messale è talmente ricco di preghiere. Tra l'altro magari noi siamo abituati magari a sentirli, ma quando noi lo usiamo e quindi siamo un pochettino più attenti perché dobbiamo leggere, preghiere di una bellezza impressionante. Quindi lì dentro c'è dentro tutta la fantasia dello Spirito Santo che ci permette di celebrare in modo bello, dignitoso e vero. Don Mauro, adesso qualcuno ci dirà, ma voi tornate al rubricismo. Ecco perché la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II in effetti ha portato ad alcuni aspetti il fatto del, noi pensiamo la lingua italiana invece del latino, l'altare è voltato in giù invece che in su, ma sono semplicemente degli aspetti importantissimi ma esterni. Quello che conta è il cuore nuovo, è la partecipazione di tutti, è il sentirci coinvolti in questa lode che sale a Dio, in questa grazia di Dio che scende su di noi durante la celebrazione dei sacramenti. Non facciamo del teatrino quando facciamo la liturgia, facciamo memoria viva di un Cristo che con noi celebra nei segni sacramentali appunto che lui ci offre per la nostra salvezza. Però in questa riforma liturgica in effetti ci si è un pochettino sciolti su quello che era un rubricismo, cioè proprio uno stare alla lettera, alle virgole eccetera, dove il prete quasi quasi non poteva muoversi più di tanto perché doveva stare, pensa un pochettino che in quel tempo lì quando si diceva il padre nostro il prete doveva, ci insegnavano così, doveva tenere le braccia non più larghe delle spalle, eravamo veramente nella gabbia del rubricismo, quindi ci siamo sciolti da questo, però appunto non essere rubricisti non vuol dire essere i fantasiosi che inventano tutto e di più, soprattutto quello che è fondamentale per la validità e la celebrazione dei sacramenti, cioè tra un estremo e un altro ci possiamo stare dentro. Certamente, sì sì, poi io qui devo abbassare un attimino la voce perché a me piacciono i gesti, i simboli, il preparare la chiesa in un determinato modo, ma penso che lo farai tu, per esempio la prima comunione, cioè alcuni segni esteriori che ti aiutino, però che ti aiutino ad arrivare al cuore della celebrazione scritta nel messale, quindi io ricordo, Don Leone, tu ricordavi quello delle braccia, io ricordo che i primi anni della mia ordinazione avevamo messo sull'altare del pane e il mio vecchio parroco mi aveva chiesto di toglierlo perché nel momento della consacrazione poteva diventare tutto corpo di Cristo, doveva rimanere tutto il corporale, queste cose un po' nostre. Io direi di non cadere in queste cose dove se uno aggiunge quella mezza parola o mette quel simbolo in più, il problema grosso è non cambiare i testi della liturgia, soprattutto le formule dei sacramenti, quindi lo ripeto, l'offertorio che lo pensi un po' per i bambini per coinvolgere, ok, ci sta, anche lì dobbiamo stare attenti perché poi l'offertorio può diventare davvero il teatrino. Ecco, quelle attenzioni che ci permette davvero di aiutare la gente ad entrare nel cuore della liturgia, io lo ripeto, senza andare a snaturare la sacralità del rito perché lì abbiamo a che fare con Dio e non con una messa in scena. Praticamente, come dice il testo, si tratta di restituire al Signore il tocco che è suo, la presenza del suo spirito che è il suo spirito attraverso la parola e i gesti che vengono compiuti, non sono roba nostra, questo è il fatto fondamentale. Tra l'altro Don Mauro mi veniva in mente che ho trovato in un angolo della mia libreria un libro di Don Andrea Spada che è stato per tantissimi anni direttore dell'Eco di Bergamo e che nel periodo della riforma liturgica, anni 70-80, che sono stati anni veramente forti e qui bisogna dare atto a Paolo VI di aver guidato in un momento formidabile e difficile questo cammino anche di riforma liturgica proprio a evitare abusi di un genere e di un altro. Il Don Spada scrisse sull'Eco di Bergamo allora, settimana dopo settimana, una rubrica, la liturgia vista dai banchi e ogni settimana toccava un aspetto della liturgia, dei gesti, dei segni di questo, di quest'altro eccetera e poi questi articoli furono raccolti in un volume che appunto porta il titolo la liturgia vista dai banchi. Io adesso l'ho riproposto, ti dirò, all'ufficio liturgico di Ocesano, non ci spero molto, ma glielo ho riproposto, ho detto, fosse che lo si riprende non per pubblicarlo necessariamente tutto prendendone alcuni spunti, perché veramente visto in quel tempo di fervore ma anche un pochettino di fantasia esasperata, lui toccava gli elementi chiave per dare senso alla liturgia, per aiutare a capire il valore della liturgia, per aiutare a entrare tutti, ciascuno con il proprio ministero e il popolo di Dio concelebrante dentro alla liturgia. Non mi dispiacerebbe effettivamente poter riprendere e dare in mano un po' a chi lo vuole, anche perché poi scritto per un giornale e dal giornalista che era Don Spada in una maniera che va in mano a chiunque, non solo all'esperto liturgico o semplicemente al prete che presiede la liturgia, ma a tutti. Non mi dispiacerebbe veramente riprendere, ci sono dentro cose molto semplici anche, ma che ci aiuterebbero dopo 50 anni ormai a riprendere una certa formazione liturgica di cui a quanto pare hanno bisogno i preti, perché se c'è qualcuno che arriva a battezzare con noi ti battezzo, vuol dire che anche i preti hanno bisogno veramente di ricomprendere che cos'è la liturgia e che cosa sono chiamati a fare. Andando a chiudere, manca poco, ma c'è quella domanda clamorosa che potremmo anche lasciare come la settimana scorsa ai nostri ascoltatori, ma chi è stato battezzato con questa formula invalida? Come la mettiamo adesso Don Mauro? Devono essere richiamati? E' chiaro che essendo il battesimo la fonte di tutto, se non parte la fonte non vale più neanche il resto della vita cristiana, soprattutto della vita sacramentale. Io penso che se la congregazione ha emanato questo documento, tra l'altro firmato da Papa Francesco, evidentemente è perché alcune segnalazioni da parte di alcuni sacerdoti sono state arrivate, sono arrivati a Roma, quindi qui si tratterà di vedere un attimino appunto se si riesce a individuare questi sacerdoti così fantasiosi da sciupare, rovinare, rendere valido addirittura i sacramenti e da lì poi risalire per sanare un sacramento non celebrato fondamentalmente. Perché dire, sai, il non valido mi sembra di cadere ancora nel questo vale, è se lo facciamo così, che poi sono termini che noi usiamo per capirci. Lì si tratterebbe davvero di fare una ricerca, non so poi se questa ricerca sarà possibile anche per gli spostamenti di tante persone nelle varie chiese e di poter sanare ciò che non è stato celebrato. Altrimenti bisognerà mettere il tutto nelle mani del Padre Eterno che fortunatamente è più grande dei preti e della Chiesa. Anzi c'era una frase che dice Dio è più grande degli stessi sacramenti ovviamente che sono opera sua e così via. Per cui c'è da mettersi un po' nelle sue mani suppongo di fronte a queste situazioni che rischiano di essere veramente intricate. Intanto cosa possiamo fare noi? Io direi una cosa, andare in questi giorni se è possibile al fonte dove siamo stati battezzati, ringraziare del battesimo ricevuto, ricordare il prete che ci ha battezzato e che ci ha battezzato senz'altro con la formula magari anche in latino io ego te battizzo se siete un po' che sino su di età o altrimenti io ti battezzo se siete più giovani e quindi pensare un po' anche al prete che ci ha battezzato nel nome di Gesù Cristo e secondo quello che la Chiesa richiede e magari pensare anche a tutte le persone che poi ci hanno educato e dal battesimo ci hanno aiutato a camminare nella vita cristiana e a formarci a una spiritualità vera secondo il Vangelo e secondo Gesù Cristo che è il modo migliore per dare tocco vero, senso vero, orizzonte vero alla nostra vita. Don Mauro grazie anche di questo incontro, grazie a voi che ci avete seguito come sempre l'augurio di una buona domenica.